Annabeth «Persi, aiutami!» gridò Annabeth. Spostò tutto il peso del corpo contro la porta di sinistra, spingendola verso il centro. Persi fece lo stesso sulla destra. Non c'erano maniglie né altro a cui reggersi. Mentre l'ascensore saliva, le porte della morte tremarono e tentarono di aprirsi, minacciando di scaraventarli fuori, in qualunque cosa ci fosse fra la vita e la morte. Ad Annabeth facevano male le spalle. La musica di sottofondo non facilitava certo le cose. Se tutti i mostri dovevano sorbirsi quella canzoncina scema, non c'era da meravigliarsi che avessero voglia di fare una carneficina, una volta arrivati nel mondo dei mortali. «Abbiamo abbandonato Bob e Damaseno», mormorò Persi. «Loro moriranno per noi! E noi, lo so!» Annabeth scosse il capo. «Santi numi, Persi, lo so!» Era quasi contenta di dover tenere chiuse le porte. La morsa di terrore che le stringeva il cuore almeno le impediva di sprofondare nella tristezza. Abbandonare Damaseno e Bob era stata la cosa più difficile che avesse mai fatto. Per anni, al campo mezzo sangue, Annabeth aveva scalpitato ogni volta che i compagni partivano per una missione, mentre lei restava lì, a guardare gli altri che conquistavano la gloria. Oppure fallivano e non tornavano più. Era dall'età di sette anni che si chiedeva «Perché non mi fanno dimostrare le mie capacità? Perché non posso essere a capo di una missione?» In quel momento si rese conto che per una figlia di Atena la prova più difficile non era comandare una missione pericolosa o affrontare la morte in battaglia. Era compiere la decisione strategica di fare un passo indietro, di lasciare che qualcun altro sostenesse il peso del pericolo, soprattutto se quel qualcuno era un tuo amico. Non poteva proteggere tutti quelli che amava. Non poteva risolvere ogni problema. Era un fatto e doveva farci i conti. Non lo sopportava, ma non c'era il tempo per le commiserazioni. Annabeth strizzò gli occhi per cacciare via le lacrime. «Persi le porte!» lo avvisò. I pannelli avevano cominciato ad aprirsi, lasciando entrare una zaffata di… ozono? Solfo? Percy spinse forte dalla sua parte e la fessura si richiuse. I suoi occhi erano carichi di rabbia. Annabeth sperò che non ce l'avesse con lei, anche se non poteva biasimarlo. Se la cosa gli dà forza che si arrabbi pure, pensò. «Ucciderò Gea, ringhiopersi a denti stretti. La farò a pezzi con le mie mani!» Annabeth annui, ma stava ripensando alle parole di Tartaro. Lui non poteva essere ucciso e neppure Gea. Contro un potere del genere, perfino i titani e i giganti erano destinati a fallire. I semidei non avevano nessuna possibilità. Le tornò in mente anche il consiglio di Bob. «Probabilmente questo non sarà l'ultimo sacrificio che dovrete compiere per fermare Gea!» Sentì fin nel midollo, che era la verità. «Dodici minuti», mormorò. «Appena dodici minuti!» Pregò Athena che Bob riuscisse a tenere premuto il pulsante tanto a lungo. Pregò di avere la forza e la saggezza necessarie. Chissà cosa avrebbero trovato una volta conclusa la corsa in ascensore. «Se i loro amici non fossero stati lì a controllare l'altro versante...» «Possiamo farcela!» disse Percy. «Dobbiamo!» «Sì!» concordò Annabeth. «Sì, dobbiamo!» Continuarono a tenere le porte ben serrate, mentre l'ascensore sussultava e la musica di sottofondo continuava incessante. Nel frattempo, nell'abisso sottostante, un titano e un gigante stavano dando la vita per loro.